è vero, è il pollo, è la zuppetta del pollo com'è la zuppetta del pollo? è buona, è buona, va bene, ok guarda che pare il pollo, invece è tartaruga, è la zuppetta del tartaruga ah, è siccaria, è chiaro, dopo vengono le uova di tartaruga i fagioli ora, la zuppa del testugio di tartaruga, che ti gusta? è buona, è buona è buona, ti gusta? è buona, ti gusta la sopa? ti gusta la sopa del tartaruga? come si chiama? tartaruga, la tortuga, la tortuga, non ti gusta la tortuga? è buona, no? si chi è la tortuga?